Aspetta cosa hanno trovato i nostri qui valorosi Pikmin oggi? Hanno trovato l'abominevole, no, il... com'è che si chiama? Il vomitevole carciopo delle nevi! E lo stanno scavando, anche se non si vede un tubo. Come potete vedere se ne ha più vicino, è un carciopo. Se torni là magari così lo guardo. Eh no, devo andare a prendere altri Pikmin. E come potete filmare il carciopo? Bruttoli, mar di cacca. Eh? Eh? Cosa mi rispondi? Riga nera? Mi rispondi? Riga nera? Eh? Adesso è il tuo. I suoi Pikmin stanno salendo. Brigatevi! Stupidi Pikmin Blue! Aiuto, stanno contaminando tutta la terra, moriremo tutti! Cosa fai adesso? Vai, vai... Sta per nascere un altro Pikmin giallo. Un altro, eh? Blu, direi. No, giallo, ho preso una cosa gialla. Eh, no, senza il colore del Pikmin. Neeeeeeeh! Viviamo! Sì, ma dov'è? E questo è il problema, mi ha perso il carciofo! Ah, ecco, avete assistito? Mi ha portato! Eccolo! Stanno portando il carciofo. Dove lo stanno portando? Ehi, lo state prendendo il carciofo? E' un po'. Aspira il carciofo. Sì, le vale anche molto. Un vomitevole carciofo delle nevi! 50 euro, ragazzi! 50 euro! Un messo tappo di bottiglia valeva quel coso! E poi rimetti i Pikmini a posto. Non si sa come male. Ok, è quasi finito il giorno. E quindi? Muoio tutti. Vinate. Oh no, un picchino in bianco sta per morire! Ok, non più. Ok, bene, direi che è trinfalito. E ora possiamo morire! No! 3, 2, 1... No! No!